William, ancora sul podio, potremmo chiesti un altro passo, ma credo che puoi essere orgogliosi di te. Sì, è stata una gara molto difficile, abbiamo iniziato la gara in P5-P4, abbiamo fatto il nostro cammino, abbiamo avuto la gara più rapida, abbiamo avuto una buona gara, abbiamo avuto un'esercizio per arrivare al top, era davvero difficile, iniziando ogni Apex e iniziando ad arrivare al lead. La prima cosa che ho potuto fare è P2, ho provato il mio meglio, ma grazie a Baby Race, buon lavoro per Blandino, e noi ci vediamo la prossima. Grazie. Grazie.